Tolstoi scrive, tutte le famiglie felici sono simili, ogni famiglia è infelice a suo modo. Parlare di terapia di coppia significa andare a parlare di un sistema che per qualche motivo ha avuto un'interruzione, un problema. In primis è un problema di cortocircuito comunicativo, l'evento può essere un evento chiaramente traumatico per uno dei due, tipo per esempio un tradimento, ma può essere anche un elemento che si sedimenta nel tempo, qual è un rapporto che non ha più quella passione iniziale, nel quale subentra inesorabilmente l'elemento della noia. Tutti questi aspetti fanno sì che ad un certo punto esplode come improvvisamente questo malessere che si covava da tempo sotto le bracci. È un elemento questo che mette in discussione l'aspetto legato al mito fondativo della coppia stessa, al progetto, al perché abbiamo deciso di costruire da una relazione che pensavamo importante nella quale ci siamo trovati e successivamente invece ci siamo accorti che questo aspetto è venuto meno. Spesso e volentieri dietro il trauma di un tradimento, se si va a scavare in profondità, troviamo degli elementi irrisolti da parte di uno dei due soggetti. Noi entriamo in coppia portandoci dietro gli elementi che a nostra volta ci derivano dalle famiglie di provenienza, quindi in primis per citarne alcuni aspetti legati allo stile di attaccamento che abbiamo acquisito e che i nostri genitori ci hanno dato, oppure ci hanno dato in maniera diversa. uno non perfetto equilibrio tra l'amore paterno e l'amore materno, temi irrisolti rispetto a degli elementi legati per esempio all'invidia con fratelli e sorelle che nel tempo si sono sviluppati e che in maniera quasi, sicuramente risolta, ma in maniera quasi magica pretendiamo dal nostro partner di risolvere, cioè chiediamo che sia lui o lei a darci la soluzione e come dei bambini fornirci, mi viene da dire, la caramella dolce. Non funziona così, spesso e volentieri, questo è un errore che riscontriamo spesso, proiettando queste aspettative a una persona, lui o lei stessa, la quale viene a sua volta da una storia familiare di un certo tipo, rischiamo davvero, senza accorgercene certamente, di mettere piano piano e inesorabilmente in crisi la nostra coppia. Trovare uno spazio condiviso, una terra, diciamo, nella quale si possa far circolare nuovamente, andare piano piano a risanare quegli aspetti sui quali non si è riusciti a lavorare, permette alla coppia stessa in primis, ma anche al singolo, di incominciare a riprendere in mano, proprio quegli aspetti che non è riuscito a vedere e sui quali mai non era riuscito a lavorare. Spesso e volentieri la domanda di cura della coppia proviene da uno dei due partner e spesso e volentieri la restituzione che viene data, oltre alla terapia di coppia, è anche un lavoro che, chi più chi meno, il soggetto portatore, diciamo, di queste mancanze deve fare con se stesso. È solo così che immettendo nel sistema nuova linfa, ma anche un lavoro tante volte difficile, difficoltoso, si può far ritrovare, e potremmo utilizzare anche questo termine, rifondare, riformulare un nuovo progetto per ripartire all'interno della coppia. Il fattore di riassestare ciclicamente il rapporto di coppia, per esempio, emerge quando i figli diventano grandi e quindi se ne vanno, la classica sindrome da nido vuoto, come spesso si sente dire. C'è la coppia che ha finito, diciamo, per certi versi il proprio progetto, quindi di fare dei figli, di allevarli e di dargli degli strumenti, speriamo, affidabili affinché loro camminino con le loro gambe, si trovano magari nell'età della pensione a doversi reinventare, forse con un nuovo progetto, che implica un assestamento e una trasformazione magari di quello che era ai tempi in maniera idilliaca, soltanto l'aspetto passionale. Qualcuno dice, ma l'amore può durare, indicando, ma l'amore passionale, l'amore del cosiddetto romanticismo può durare tutta la vita, oppure ha bisogno, necessariamente ha bisogno di metamorfosi, di cambiamenti, di aspetti legati non soltanto a una sovrapposizione inesistente da un punto di vista simbiotica, ma dall'opportunità che entrambi le singolarità si possono dare per riesplorare il mondo e per portare in quel contenitore che è la coppia questi elementi nuovi di vitalità e di linfa che la fanno rinascere, appunto, da un punto di vista energetico, potremmo dire, ma anche sostanziale.